Sizzle Maynake Hansen Dona The Manual Labor Series 2013 Presentata al Malmo Art Museum nel 2013, Dona The Manual Labor Series è una serie di xilografie realizzate a partire da lastre intagliate a laser. L'artista parte da disegni a mano e riprodotti con una macchina da taglio laser a controllo numerico. Hansen prende in prestito una tecnica antica come la stampa sul legno, intrecciando questa pratica con la sua ricerca sul lavoro fisico in tempi di capitalismo cognitivo e sui danni causati al sistema nervoso autonomo, letti come sintomi di un rifiuto del corpo a servimento alle logiche neoliberiste. Mettendo in relazione produzione manuale e computazionale in una modalità inedita, l'artista pone l'attenzione sulla falsa ideologia della scomparsa del lavoro fisico in un mondo, quello occidentale, dominato dal cosiddetto lavoro immateriale. In una delle stampe una mano adagiata sulla scritta freelance, in italiano libero professionista, è colpita da una lama che simboleggia una tendinite. L'artista ha donato l'opera al museo di Malmo, rifiutando di ricevere il compenso patuito per la commissione. La donazione delle opere al museo è la prima azione di un progetto di ricerca chiamato Zero Collection, che invita l'istituzione a prendere parte al Rolling Jubilee, un'operazione di acquisto ed estinzione di piccoli debiti, atto di ribellione al sistema capitalista basato sullo sfruttamento di soggetti costretti in uno stato di indebitamento costante. Grazie a tutti.